umberto tozzi ha difeso la sua canzone gloria usata durante un comizio di donald trump mi dissocio completamente è un brano scritto per la bellezza alla vita non un inno di rivolta questo ha dichiarato il cantante l'artista ha voluto diffondere pubblicamente il video sia in inglese che in italiano per spiegare il messaggio d'amore e bellezza che sta alla base del suo grande successo scritto nel 1979